we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi come già sapete strassapete risapete lo sappiamo tutti ci sarà il super mega aggiornamento di clash royale tra pochi giorni fino a qualche giorno fa ragazzi si è parlato di ottobre ma oggi invece sono trapelate delle notizie più per la precisione questa mattina che già ci dicono che dal 30 settembre quindi tra pochissimi giorni arriverà la prima parte dell'aggiornamento e non è che stiamo parlando di pizza e fichi ragazzi stiamo parlando di una nuova modalità di gioco in clash royale qualche minuto fa sono riuscito a trovare in rete in un sito estero qualche dettaglio in più a riguardo e sono qua a dirgli per voi ragazzi la nuova modalità si chiamerà touch down che è proprio il termine usato quando si sorpassa la meta nel rugby con la palla la modalità touch down ragazzi non prevederà non prevederà le solite regole che conosciamo nelle partite di clash ma ci saranno comunque le corone assegnate e sembrerebbe che ogni corona viene assegnata in base a ogni touch down che viene fatto con le proprie truppe praticamente ci dicono più nel dettaglio che lo scopo del gioco è quello di riuscire a far arrivare una truppa dalla parte opposta del campo di gioco ci sono però anche delle eccezioni delle esclusioni se volessimo essere più precisi non sarà possibile giocare il barile ovviamente non sarà possibile giocare lo grinder e sembrerebbe ragazzi che molte delle truppe aeree non sarà possibile giocarle ci dicono anche che prima di far uscire questa modalità dovrebbe esserci una sfida speciale in 2v2 addirittura che contenga appunto questa modalità è già qua ragazzi wow se già la modalità è nuova immaginate in 2v2 come potrebbe essere non sappiamo se il deck sarà da 8 carte sarà da meno carte non lo sappiamo però leggo che ci saranno anche delle nuove emo joy e delle nuove frasi che potremmo dire ai nostri avversari o al nostro partner alla fine della battaglia beh ragazzi questo era proprio uno sprazzo di aggiornamento l'ho appena trovato mi sembrava giusto dirvelo vi ricordo anche di andare a fare un salto nel canale di dragon stick che lui ha pubblicato ovviamente in largo anticipo qualche dettaglio sull'aggiornamento io spero che voi siete soddisfatti di queste mie informazioni e vi ricordo di lasciare un bel like a questo video e di iscrivervi al canale youtube noi ci vediamo più tardi live ciao